Movimento dei forconi nel mirino della Digos, 18 perquisizioni in diverse città, parla l'indagato freghigiano, finalmente si sono accorti di me, le popolari venete prorogano al 28 marzo l'offerta di transazione agli azionisti dalla regione 600 mila euro per le spese legali, via 70 migranti dall'ex Serena ma non basta delusione il giorno dopo la vista del ministro dominiti per la Lega poteva starcene a Roma, 140 evasori totali scoperti dalla finanza nel 2016, sempre di più gli imprenditori che sottraggono utili alla tassazione, legato ai lavoratori lo spazio per l'assemblea intervengono i carabinieri accaduto in un'azienda di Oderzo, 7 uri binari dopo il caso della 17enne fermata allo scalomotta, parlano i suoi coetanei per l'esperto sui social vite parallele, una buca sulle strisce pedonali ha rovinato la vita di una donna che da allora sta lottando sul comune di Mogliano con un giusto risarcimento, buonasera dalla redazione DTG Treviso e dunque abitazioni passate al setaccio e 18 indagati nel mirino degli investigatori il movimento 9 dicembre, i forconi tra le persone indagate c'è anche un trevigiano che dice finalmente si sono accorti di me, avrebbero inneggiato all'arresto anche del Presidente della Repubblica. Avevano inviato alle procure e diffuso in rete un documento che si auspicavano fosse l'inizio di una sorta di rivoluzione, speravano nell'arresto di tutti i parlamentari, rei a loro avviso di essere abusivi dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale ed avevano già cominciato con le dimostrazioni delle loro intenzioni, come l'esecuzione dell'ordine di cattura popolare ai danni dell'onorevole Osvaldo Napoli. Ci sono anche un trevigiano e un triestino, simpatizzanti del movimento 9 dicembre, i forconi, tra i 18 iscritti nel registro degli indagati per i reati di associazione a delinquere, finalizzata l'istigazione a delinquere e all'usurpazione di pubbliche funzione. Anche i due cinquantenni del nord-est avrebbero condiviso in rete il famoso documento di 19 pagine inviato alle procure e ai comandi dei carabinieri di mezza penisola. Diffondono una serie di messaggi dal contenuto inquietante che sinceramente possono generare anche in altre persone dei gravi fatti, l'esili e dell'incolumità pubblica e dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il leader del movimento, il generale dei carabinieri in pensione Antonio Pappalardo, intanto alza l'asticella dello scontro frontale con le istituzioni e spiega di non essere disposto ad arretrare. Invece di andare ad arrestare i parlamentari abusivi vanno a perquisire le case dei denuncianti e noi per prima se andremo al potere la prima cosa che faremo elimineremo la Digos perché in un paese democratico non debbo esistere, non debbo esistere le polizie politiche. L'indagato trevigiano Paolo Denardi ha dato notizia della perquisizione della Digos dal suo profilo Facebook. Questa mattina alle 5 mi sono visto arrivare la Digos di Treviso. Finalmente, dopo anni di attivismo contro questa Europa dei poteri finanziari che si nutre della serenità delle nostre famiglie, un riconoscimento anche per me. E ora parliamo di banche popolari. Le due popolari veneti hanno prorogato al 28 di marzo l'offerta di transazione agli azionisti dalla regione. Intanto in arrivo 600 mila euro sia per le spese legali che per il sostegno psicologico di chi ha perso tutto. È ufficiale. Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno prorogato l'offerta di transazione rivolta ai soci azzerati a martedì 28 marzo. Lo hanno comunicato entrambi gli istituti di credito motivando la decisione in considerazione del crescente numero di accordi sottoscritti negli ultimi giorni e dell'elevato flusso di azionisti che si stanno presentando alle filiali per sottroscrivere la transazione. Filiali da domani a martedì che resteranno aperte oltre l'orario consueto. Complessivamente hanno aderito alla proposta delle due banche 115.200 soci, 51.900 di Veneto Banca e 63.300 di Popolare di Vicenza su una platea di circa 169.000 azionisti. Proposta di transazione che ha dunque raccolto ad oggi adesioni pari al 64% per Veneto Banca e al 65,44% per la Popolare Vicentina. Il tutto nel giorno in cui l'ex presidente di quest'ultima Gianni Zonin è stato interrogato per oltre quattro ore dai PM che conducono le indagini sulla crisi dell'istituto di credito berico. L'imprenditore Vinicolo avrebbe parlato ma all'uscita si è chiuso in un no comment. Nel frattempo la regione ha deciso di contribuire alle spese di consulenza e assistenza legale sostenute dai cittadini danneggiati dall'acquisto di azioni stanziando un plafond di 600.000 euro, 500.000 sotto forma di contributi ad associazioni e comitati per l'assistenza legale, 100.000 per il sostegno psicologico alle persone coinvolte nella crisi. Con la delibera approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul Buri in uscita domani si aprono i termini di presentazione delle domande di contributo. Voltiamo pagina. Delusione il giorno dopo la visita del ministro dell'interno Minitti per il sindaco di Casier Giuriati ancora nessun vero piano invece la Lega Tuona poteva starsene a Roma. Il piano profughi non c'è o meglio c'è a livello nazionale ma nessuna vera e propria scaletta per il Veneto e più precisamente per Treviso. Non nascondono l'illusione il giorno dopo la visita del ministro Minitti i pochi sindaci presenti della marca a partire da chi i profughi della caserma Serena ce li ha e come. Viene nel Veneto una terra notoriamente ostile e come ha detto il sindaco Variati l'ultima ad entrare nel Regno Unito e questa la dice lunga no? Si trova 56 sindaci al posto di 570 mi pare che siamo. Una domanda te la fai. Nessuno sforzo per la Lega che si allinea a questa posizione. Il ministro Minitti arriva in Veneto ma se stava a Roma era meglio. Questo governo del PD e di questo ministro stanno portando sui nostri territori una montagna di richiedenti asilo che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio e soprattutto con i nostri comuni. Le richieste della Lega restano chiare, identificazione subito e definizione dello status. Chi ha il diritto di essere profugo rimane in Italia, chi non ha il diritto deve essere spedito al più presto al suo paese con un viaggio d'aereo che costa meno di una permanenza in Italia di una settimana. 70 profughi via dalla caserma serena all'annuncio del ministro ma il sindaco avverte. Cominciamo a svuotarle, a riportarle numeri, quelli della legalità, quelli da bando, va benissimo intanto. Però io chiedo anche che se c'è un piano ANCI che diventa legge, che è stato approvato, adesso non lo so a che livello è, c'è un piano 3 per mille, benissimo attuiamo quelli perché le promesse devono essere poi mantenute. E dopo la visita del ministro Minniti a parlare di sicurezza sono anche i poliziotti, gli uomini che ci lavorano in prima linea. È una sicurezza abdicata a quella che è la legge, la legge dice il cittadino deve essere difeso. Oggi uno Stato che ha abdicato a quello che è il cittadino come sicurezza personale ritengo che sia uno Stato che abbia bisogno di una riforma quantomeno. Una gestione della sicurezza che continua a non convincere i poliziotti, costretti a fare i conti con organici ridotti all'osso e soluzioni innovative come ronde o controlli di vicinato che vedono i compiti dello Stato delegati ai cittadini. Insomma le esigenze di sicurezza che rischiano di faticare prima di essere prese in considerazione a tracciare il quadro è Gino Balbinot del SAP. Quello che sono stati i tagli previsti e che dureranno ancora per alcuni anni sicuramente non daranno soddisfazione alle esigenze dei cittadini. Meno che mai dei poliziotti visto che hanno fatto un riordino truffa che non ci ha dato nemmeno una soddisfazione economica o quantomeno un contentino per l'aspetto che riguarda quella che è una gratificazione sul, chiamiamolo, grado. Tra le questioni affrontate ieri dal ministro dell'interno Marco Minniti anche quello dei migranti un tema che per i poliziotti si lega a doppio filo a quello degli organici. Nel 1989 era previsto un numero, attualmente siamo 15 sotto quello che era il numero ottimale di quel periodo e dobbiamo contare però che ci sono dei servizi legati agli extracomunitari che hanno ridotto in maniera importante quella che è la reale esigenza del cittadino in questo senso. Rimane più in generale la questione accoglienza. Non ne possiamo sopportare altri, quelli che ci sono purtroppo sono troppi e ritengo che debba essere bloccato a monte. Gestione dei migranti anche fuori dai centri di accoglienza dopo i disagi denunciati al cimitero maggiore di San Lazzaro, Casugana, da oggi ha trovato una soluzione degli educatori al cimitero per monitorare la situazione. Purtroppo stamattina mi sono trovata proprio che esista ai 5-6 chi traversava il bicicletta al cimitero in tutta velocità. Cosa si può fare? Cosa c'è da fare? Ha avuto immediato riscontro il problema al cimitero di San Lazzaro segnalato una decina di giorni fa da voi telespettatori durante la diretta di Sveglia Veneti. Casugana, incontrati i responsabili dei centri di accoglienza dei migranti, ha fatto partire in collaborazione con loro un progetto di vigilanza del cimitero maggiore. Da oggi alcuni operatori della cooperativa che gestisce la ex caserma Serena saranno presenti fuori e dentro il cimitero di San Lazzaro e vigileranno e controlleranno che i richiedenti asilo non soggiornino e non attraversino il cimitero maggiore. Educatori, come ha già fatto il comune di Casier, Casugana intende impiegarli anche nei parchi pubblici, soprattutto quelli più a rischio, i giardinetti di Sant'Andrea e di Porta Altinia. Questo si integra esattamente con la figura e il ruolo dei guardi a parchi che abbiamo incaricato attraverso un'associazione di volontari e che per sei mesi in forma sperimentale vigilerà nei parchi e nei giardini pubblici. Tutto questo sul fronte della prevenzione. Quanto alla repressione, il comune ha deciso di potenziare l'unità cinofila antidroga della polizia locale. Accanto a Trixi, al cane antidroga, arriverà presto un altro esemplare che andrà in forza al nostro comando. Insufficienza respiratoria. E questa è la causa della morte del 52enne Stefano Toninato, trovato privo di vita lunedì scorso nel fosso che costeggia Villa Margherita a Santa Maria del Rovere in città. L'uomo che è stato trovato in acqua non è quindi morto annegato. L'autopsia ha anche rilevato che non c'è stata alcuna violenza. Per chiarire come siano andate le cose, mancano ancora gli esiti dei risultati tossicologici. L'uomo aveva con sé una boccetta di metadone. Gli accertamenti svolti dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, su ordine del pubblico ministero Giulio Caprarola, allontanano quindi l'eventualità di un omicidio, ma lasciano aperta l'ipotesi che la morte sia sopraggiunta come conseguenza di un altro reato, eventualità strettamente legata agli esiti dei risultati tossicologici. Proseguiamo con la cronaca e con il tamponamento lungo l'autostrada A4. Nel primo pomeriggio coinvolta una cisterna carica di formaldeide. Giornata di passione in A4 contro incidenti, due nella mattinata nel tratto veneziano, l'ultimo nel comune di Cessalto. Erano le 13.30 quando all'altezza dell'area di servizio di Calstorta un autocarro e una cisterna carica di formaldeide sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Nessun ferito e nessuna perdita di carico, ma in autostrada è stato il caos. Chiusa la strada per permettere i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi da parte dei vigili del fuoco. Sette chilometri di coda dopo circa un'ora, con Autovia Venete costretta a istituire il passante lungo l'A28 e l'A27. Paura nel pomeriggio anche a Crespano del Grappa, dove un'auto ha travolto un gruppo di giovani ciclisti in allenamento. Crespano, un sorpasso azzardato, una manovra errata e l'auto piomba su un gruppo di giovanissimi ciclisti in allenamento lungo via San Michele. Due ragazzi, un quindicenne e una giovane di 17 anni, entrambi residenti nel Bassanese, restano a terra. Immediati arrivano i soccorsi, sul posto i sanitari del SUEM di Crespano. Per il quindicenne c'era sospetta frattura di un arto, la diciassettenne, invece, se la cava con alcune escoriazioni. Ai lavoratori viene negato lo spazio interno per lo svolgimento dell'Assemblea e intervengono i carabinieri, accaduto oggi alla LAE Electronic di Oderzo, secondo quanto riferito dalla FIM CISL di Treviso Belluno. La proprietà sostiene di non aver ricevuto per tempo idonea comunicazione. Secondo il sindacato, invece, sarebbe stato impedito l'accesso all'interno dei rappresentanti anche dopo l'intervento di mediazione dei militari. Non ho nulla contro il sindacato, ma non ho spazi idonei per ospitare tutti i dipendenti dell'azienda in sicurezza, ha spiegato il presidente dell'azienda che ribadisce di non aver ricevuto per tempo la comunicazione. Quella di oggi, convocata per spiegare il nuovo contratto dei metalmeccanici, aggiunge sempre il presidente, sarebbe stata la prima assemblea in azienda dopo oltre 30 anni. 140 evasori totali sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nel corso del 2016, ma Treviso si distingue anche peraltro il tentativo degli imprenditori di sottrarre utili alla tassazione. Una montagna di carta, un giro di fatture per acquisti che esistono solo sulla contabilità, così da gonfiare le spese e riuscire a pagare meno tasse. Un affare da 100 milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza nel 2016. Il sistema è noto, ma a quanto pare più di qualcuno tenta ancora di percorrere quella strada. Una via che assicura profitti facili, ma stando al bilancio della finanza trevigiana, assicura altrettanto facili guai. Il Comando Provinciale di Treviso ha accertato un enorme frode fiscale caratterizzata dalla presenza di una serie di cartiere, cioè società inesistenti, privi di qualsiasi struttura societaria e organizzazione contabile, creata lo scopo di emettere oltre 100 milioni di fatture per operazioni inesistenti. Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa, sono stati denunciate 131 persone con 7 arrestati. Ben 33 datori di lavoro sono finiti nei guai per aver impiegato 112 lavoratori in nero. Contro l'evasione e le frode fiscali sono 88 i denunciati, di cui 4 tratti in arresto, responsabili di 115 reati fiscali, l'80% dei quali riguarda gli illeciti più gravi. I controlli in materia di spesa pubblica, quindi i ticket sanitari e i controlli nei confronti di coloro che grazie alla presentazione della dichiarazione ISEE ottengono benefici pubblici. 129 sono invece le verifiche dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l'esenzione del ticket sanitario con percettuali di irregolarità pari al 70%. Dopo il caso della ragazza di 17 anni fermata, mentre era nei pressi dei binari allo Scalo Motta dove ha ammesso di aver fatto in passato anche dei selfie, abbiamo cercato di capire cosa ne pensino i suoi coetanei. L'esperto dice che sui social i ragazzi creano delle vite parallele. Dipende anche se sei sicuro che il treno non passa, allora sì, però in 5 secondi vado via. Sono dei miei amici che l'hanno fatto. E perché lo fanno secondo te? Per credersi fighi. 14 anni, 16 anni, il selfie di moda in una generazione iper digitale che vive con lo smartphone e di smartphone dopo il caso della ragazza di 17 anni fermata allo Scalo Motta. Dopo il caso della ragazza di 17 anni fermata allo Scalo Motta che ha confessato l'intenzione di fare un selfie sui binari, i più riflettono e spiegano. Rischiare la vita soltanto per farsi vedere sui social non è cosa da me. Non lo farei perché ho paura di essere investita da un treno. È rischioso, cioè è una cosa stupida per farsi vedere dagli altri per avere magari più amici finti che amici veri sui social. I social, vetrine ma soprattutto piazze virtuali dovrebbero essere diversi da quello che si è realmente. Un gioco pericoloso soprattutto in adolescenza. Io spesso vedo ragazzini che frequentano il nostro servizio, che si rappresentano in maniera completamente diversa nei social media. Ci sono quasi delle vite parallele direi nei social media. Insomma i ragazzi si rappresentano in maniera molto diversa e molto distante da quello che sono nella realtà. Ma le nuove tecnologie possono rivelarsi vincenti anche sul fronte della prevenzione. È il caso del servizio Whatsappiamo dell'Ulss2 che attraverso una lista anonima in broadcast ha raggiunto da maggio a oggi 300 utenti. Abbiamo dei gruppi di genitori che fanno dei percorsi di formazione con noi, ricevono dei contenuti, dei piccoli messaggi legati ai contenuti dei percorsi che seguono. Abbiamo i ragazzi che fanno la peer education sulla problematica dell'alcol nelle scuole. La caduta due anni fa mentre andava a vedere la recita della nipotina una buca sulle strisce pedonali ha rovinato letteralmente la vita a una donna che da allora sta lottando con il comune di Mogliano per un giusto risarcimento e adesso ha deciso di portarlo in tribunale. Stavo andando alla festa di fine anno di mia nipotina dalla chiesa attraverso le strisce pedonali per andare alla scuola materna. Purtroppo all'altezza della strisce pedonale c'era una buca e c'è la striscia sopra e mi sono inciampata. 17 marzo 2015, una data che la signora Loretta non dimenticherà più. Una caduta accidentale su una buca piccola ma insidiosa sulle strisce pedonali davanti alla scuola dell'infanzia di Zerman le ha complicato di non poco la vita. Nove giorni di ospedale, un doloroso intervento a entrambe le spalle. In quella destra è stata inserita anche una protesi e da allora l'esistenza è cambiata. Non riesce più a fare quasi nulla, soprattutto in casa, racconta. Io non riesco più per esempio a lavare i piatti, a stendere i panni, a sbattere i tappetti, tutte cose che cambiare lenzuola in letto, niente, quelle non sono più capaci. A volte mi fa voglia di prendere in braccio mia nipotina, però non ce la faccio. Un dolore per una nonna non poter prendere in braccio una nipote, soprattutto se hai 59 anni è una grande vitalità e se hai 57 anni, 10 mesi dopo la pensione, un simile incidente ha mandato all'aria la tua esistenza. Una donna delle pulizie in casa, ma soprattutto più di 180 euro a settimana tra terapie, ginnastica e riabilitazione. Da allora per la signora Loreta, che da subito ha chiesto conto di quanto le era accaduto al comune di Mogliano, rivolgendosi allo studio 3A. Nessun tentativo di conciliazione da allora e la buca è rimasta al suo posto. Lì, appunto, secondo noi c'è la responsabilità principale dell'amministrazione comunale perché su questo attraversamento pedonale vi sono stati più rattoppi e sono ampiamente visibili. Lunedì il comune di Mogliano è stato citato in tribunale. Finora ha speso 25.000 euro per curarsi. Loreta Fantin vorrebbe vedersi riconoscere almeno questi. Da Mogliano a Casale Sul Sile la passerella alla curva del morto è chiusa da più di otto mesi, come vi abbiamo già raccontato in un servizio ieri. Allora il comune cercherà di riaprirla, così ci ha detto il sindaco, entro agosto. La passerella alla curva del morto è a un binario morto. Il gioco di parole ci può stare, ma qui a Casale nessuno ha voglia di scherzare. Lo hanno sintetizzato bene i residenti che hanno chiamato le nostre telecamere per documentare il paradosso. Un tratto che si interrompe lasciando pedoni e bici a ridosso di una strada trafficata e pericolosa. È una situazione insostenibile. Stanno aspettando il morto. Quasi nove mesi di blocco per la passerella crollata. Possibile? Sì, possibile. Lo ribadisce oggi con amarezza il sindaco di Casale sul Sire Stefano Giuliato che sta cercando una soluzione. A Monte un grosso problema. Chi realizzò la passerella in legno nel 2003 doveva anche pianificare delle manutenzioni che non sono mai state realizzate. Ecco il guaio del crollo dopo appena 13 anni l'estate scorsa. Al quale l'amministrazione dopo lo stop al transito cercò di porre rimedio abbandonando l'idea di rifarla così com'era e scegliendo un altro progetto. Meno costoso e più pratico. Questa soluzione abbandonava la struttura in legno e noi ipotizzavamo un terrapieno. Dalla conferenza di servizi gli enti preposti alla tutela del paesaggio purtroppo si sono espressi in maniera contraria e ci hanno dato indicazioni diverse. Stop dalla superintendenza ai beni paesaggistici così il tempo è passato nella riprogettazione di un'altra soluzione approvata a marzo del costo di 255 mila euro. Spesa importante ma con un vantaggio. Noi abbiamo ipotizzato di spostarsi sull'attuale sedine stradale quindi cambiando un attimino la viabilità in modo tale che le future manutenzioni siano meno onerose. Ecco i tempi entro fino aprile la conferenza dei servizi che dovrebbe dare finalmente il via libera poi tre mesi per il cantiere insomma avviso a ciclisti e pedoni massima prudenza perché non se ne parla prima di agosto sempre che si trovino i soldi. Attualmente dire ci sono tutti e sarebbe una falsità io dico una parte ci sono e quindi ho fiducia che possono entrare anche perché è una delle priorità. Domani sera dalle 21.05 a Focus vi ricordo anche quest'anno la diretta del processo a Aveccia di metà quaresima a Ponte Dante. Rete Veneta vi proporrà ampie finestre sul rogo organizzato per la 51esima volta in Riva al Sile non più dall'associazione Amici di Ponte Dante ma dal gruppo folcloristico trevigiano. Anina Rittardina in San Leonardo questo è il nome di quest'anno tante le colpe attribuite legate soprattutto alla politica cittadina nome che richiama già il cantiere infinito di Piazza Santa Maria dei Battuti ce ne saranno di tutti i colori insomma. La diretta ve lo ricordo ancora domani sera durante Focus a partire dalle 21.05 questa sera invece Focus sul ministro Minniti che ha incontrato a Bagnoli e a Treviso i sindaci alle prese con i migranti. Tanti gli ospiti in studio con il nostro direttore Luigi Bacialli come sempre aspettiamo i vostri sms. È tutto per questa sera io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento come sempre a domani. Vi lascio intanto alle previsioni del tempo. Arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni. Su zone montane e pedemontane precipitazioni sparse specie sui settori più occidentali. In pianura graduale aumento della probabilità di precipitazioni da locali e sparse specie verso ovest. Temperature minime stazionari o in locale diminuzione. Massime in aumento.